Siamo nel Mar Ligure, attualmente stiamo collaborando con l'Enea di Aspezia Santa Teresa per la ricerca di banchi di corallo bianco, in una zona che ci hanno indicato i ricercatori dell'Enea e stiamo utilizzando il sonar a scansione laterale su una profondità che va dai 400 ai 700 metri. Prima di questa attività con il scan sonar abbiamo effettuato una mappatura della zona indicata con i motivi della nave effettuando appunto un modello tridimensionale del fondo. L'attività si proverrà per tre giorni, nel periodo diurno filiamo il size scan sonar, quindi il size scan sonar a scansione laterale, rimorchiandolo con mille metri di cavo. Nell'arco notturno invece produciamo lo scandagliamento multibim della carta 909 che è relativa al marito. Grazie a tutti.